Buongiorno e bentrovati a questo ultimo appuntamento settimanale con la rassegna stampa di mattino 6. Iniziamo subito a guardare le notizie dalla nostra regione andando a sfogliare le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo dal centro quella che vedete alle mie spalle l'edizione di Pescara, il titolo di apertura strada parco arrivano i bus elettrici. La regione finanzia l'acquisto di sette mezzi ma per usarli manca l'ok del Ministero. Andiamo a vedere a centropagina l'altra notizia di giornata a Pescara, un bel punto nella sfida di ieri sera con il Palermo, bloccata la capolista con l'applausi e pari che fa sperare. Andiamo a vedere nelle cronache a Montesilvano, Tortuga stop, alla Movida il sindaco ferma la musica e poi i nonni vigili tornano solo a dicembre e ancora da Montesilvano marito e moglie investiti sulle strisce. Una coppia è stata investita da un furgone sul lungomare Aldomoro di Montesilvano. Ad avere la peggio è stato l'uomo di 62 anni ricoverato in gravi condizioni. Andiamo a vedere invece quest'altra notizia perché ieri c'è stato un cambio alla direzione del quotidiano Il Centro e dunque la comunicazione dell'editore, il consiglio di amministrazione ha nominato Piero Anchino, nuovo direttore del quotidiano Il Centro, si ringrazia il dottor Primo Di Nicola per il compito svolto questa la comunicazione e poi chiaramente c'è la presentazione anche del nuovo direttore che scrive un premio per tutta la squadra quello di arrivare alla direzione del quotidiano Il Centro. Andiamo nel taglio alto a vedere le altre notizie. Il terremoto dell'Aquila, crollo del convitto, Mattarella Grazia, il preside arrestato e poi il giallo di Giulianova, pittrice sparita, indagati domicilio, figlio ed ex marito. Andiamo nel taglio basso a vedere il Buongiorno Abruzzo firmato da Giuliano Di Tanna, il titolo Abruzzo campione degli ascensori. Voltiamo pagina, restando sempre al quotidiano Il Centro, andiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto, il titolo di apertura e di cronaca, ex marito e figlio indagati domicilio, svolta nel giallo sulla scomparsa della pittrice Tiatina Rapposelli, RIS, arriva a Giulianova. E poi a centro pagina nella fotonotizia torna l'avvertenza Onewell, sospendete lo sciopero e l'appello del prefetto ai lavoratori, ieri c'è stato un incontro proprio tra il prefetto, una rappresentanza dei lavoratori che ormai da un mese e mezzo scioperano davanti ai cancelli dell'azienda di Atessa. Nelle cronache scoppia la protesta, invalidità civile, le visite si fanno solo a Chieti e poi a Francavilla controlli nelle scuole, chiuso un nido da parte del NAS che sta facendo seguito con le indagini e assegnalazioni da parte dei genitori. Poi Ortona, furti nelle case, blitz nel BNB, quattro i denunciati. Andiamo nel taglio alto a vedere quest'altra notizia, emergenza a Chieti, costa 5 milioni, bonificare i siti contaminati. Cambiamo ancora prima pagina, andiamo a vedere adesso la prima dell'edizione di Teramo, anche qui il titolo di apertura riguarda il giallo di Giulianova, ex marito e figlio indagati di omicidio. Ci sarebbe una svolta in queste indagini sulla scomparsa della pittrice Rapposelli. Vedete a centropagina i RIS che ieri sono stati a Giulianova nella casa dell'ex marito e del figlio della pittrice Renata Rapposelli. Nelle cronache la crisi al comune di Teramo. I dissidenti ci saranno, il bilancio può passare. E poi ancora sulla A24 con il telelaser 148 maxi multe in un mese i controlli della polizia stradale tra San Gabriele e Basciano. Fanno una strage, ritirate nove patenti, 493 punti totali decurtati, beccato a un Audi che procedeva a 230 km orari. E poi il quarto lotto della Teramo mare. Il percorso va cambiato per completare la superstrada. Si riparte dal progetto di dieci anni fa, ma va cambiato per evitare zone abitate e aree a rischio esondazione. I sindaci si sederanno al tavolo con l'ANAS per decidere insieme le modifiche. Andiamo a vedere anche nel taglio alto quest'altra notizia. Paolo Ademicheli, il commissario straordinario per la ricostruzione, parla ai sindaci. Sisma 2016, ecco chi dovrà pagare le tasse. Andiamo a vedere sempre sul quotidiano il centro, l'ultima delle quattro prime pagine provinciali. Mattarella chiede grazie, scusate, grazie al preside Bearzi, questo è il titolo di apertura della pagina aquilana. L'Aquila crollo con tre morti nel convito, doveva scontare cinque anni sono molte le proteste. Andiamo a vedere a centro pagina, nella fotonotizia, bimba ferita, c'è l'ispezione. Ad Avezzano, sindaco nella scuola, dice solo un chiodino a provocare questo incidente. Poi nelle cronache in comune, 17 assunzioni nei prossimi tre anni nel municipio aquilano. Poi ad Avezzano, donna morta dopo tre interventi, l'ASL è stata condannata. Il calcio al col vietato per il derby con l'Aquila allo stadio dei Marsi di Avezzano. Nel taglio alto, le altre notizie, strage di Pietransieri dopo la condanna di Donato e il sindaco di Roccarazzo, i tedeschi adesso finanzino il parco della memoria. Poi il giallo di Giulianova, pittrice sparita, indagati ex marito e figlio. Questo per quanto riguarda il quotidianità quotidiano il centro, cambiamo testata. Adesso andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Anche qui il titolo è dedicato al giallo di Giulianova, pittrice accusa di omicidio il titolo. Per la scomparsa di Renata Rapposelli sotto inchiesta il marito e il figlio, svolta dopo un lungo interrogatorio, i carabinieri del RIS setacciano la casa di famiglia. Andiamo a leggere meglio questa notizia nell'estratto dell'articolo a pagina 36. Indagati per omicidio aggravato in concorso ed occultamento e distruzione di cadavere. Cambiato completamente lo status di Giuseppe Simone Santoleri, rispettivamente ex marito e figlio di Renata Rapposelli. La pittrice anconetana di 64 anni scomparsa misteriosamente il 9 di ottobre. Gli avvisi di garanzia hanno confermato ieri mattina il procuratore della Repubblica di Ancona, Elisabetta Melotti e il PM Andrea Laurino. Sono stati consegnati dopo gli interrogatori dei due sentiti per ore la notte scorsa nella caserma della compagnia dei carabinieri di Ancona. Andiamo avanti, andiamo a centropagina. Il rettore Graziato Mattarella è stato generoso. L'Aquila, studenti morti sotto la struttura, Bearsi potrà tornare a lavorare. Il conto con la giustizia lo chiuderà tra un anno e mezzo circa. Intanto la levata di scudi dei colleghi dell'intera Regione Friuli contro la sua condanna ed il successivo arresto, quando la sentenza è diventata definitiva, hanno avuto un importante effetto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia sulla pena accessoria al dirigente scolastico friolano Livio Bearsi. La grazia ricevuta ieri dal dirigente scolastico gli consentirà a breve di rientrare a scuola. Sono estremamente felice e desidero ringraziare tutti coloro i quali a vario titolo e in diverso modo mi sono stati accanto e hanno sostenuto la richiesta di grazia. Ha dichiarato Bearsi non appena ricevuta la notizia. Andiamo a vedere invece nella fotonotizia la Serie B con il pari spettacolare all'Adriatico. Pescara Palermo è un 2 a 2 pirotecnico, scrive il messaggero. Scendiamo nel taglio basso, andiamo a vedere. Pescara lo sport batte le baby gang. In una sola settimana tre ragazzini, due diciassettenni e un sedicenne, arrestati dalla polizia per tentato omicidio per aver cercato di ammazzarsi a sprangate. Sullo sfonto una guerra di piena regola tra baby gang e rivali, divise dal corso del fiume come nella migliore tradizione. Il sedicenne è finito dentro anche per aver provato a investire un poliziotto con uno scooter rubato ad un coetaneo. Ora nasce un progetto basato sullo sport per limitare le situazioni di disagio giovanile. Andiamo a vedere anche di spalla, notizia che abbiamo già visto anche in precedenza. Nas nelle menze tra poca igiene e prodotti non conformi. Il blitz seguito a degli esposti da parte dei genitori, denunce e sequestre a Pescara è nel Chietino, chiuso un nido. Gli altri richiami nel taglio alto della pagina del messaggero. Andiamo a vedere Pescara, prefetto, provolo passa il testimone a Basilicata il 20 di novembre. Poi Chieti sforbiciate in comune, meno uffici e dirigenti. A Pescara bus elettrici sulla strada parco, la regione finanzia l'acquisto. L'intervento nell'ambito di un progetto complessivo di 23 milioni di euro sulla mobilità sostenibile. Lasciamo il messaggero. Adesso andiamo a vedere insieme la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo sulla fotonotizia pittrice scomparsa, ex marito e figlio indagati per omicidio. Giulianova, il rist dei carabinieri il ristro dei carabinieri sequestra la casa di via Galilei e l'autovettura. Continuiamo nel taglio alto. I fondi europei su Teramo, questo è il focus, dalla regione 4,6 milioni per il mercato coperto. E poi di spalla Giulianova, test scambiati, scena muta per l'infermiere e l'automobilista coinvolti in questa inchiesta della Polizia stradale. E poi ancora Roseto degli Abruzzi, restyling per l'area movida di Via Latina. Ad Alba Adriatica, regole sagre, il sindaco apre alle modifiche. E poi sotto la fotonotizia, la politica teramana, i due paoli sono stufi dei giochetti dei dissidenti. I Gattiani elaborano un documento proprio in vista del prossimo consiglio comunale. Nel taglio basso andiamo a vedere le altre notizie. Il quarto lotto cambia percorso con 85 milioni, poi basket in carrozzina, riparte il campionato, Colciaves lancia l'amicacci Giulianova. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso andiamo a vedere insieme le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Prima abbiamo visto, come detto, le prime pagine della nostra regione. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera. Banche, duello sui controlli. L'istruttoria della Commissione giovedì faccia a faccia tra Banca Italia e Consob. Credito, Casini, no al palcoscenico mediatico per la Commissione d'inchiesta sulle banche. Renzi torna all'attacco. Chi ha sbagliato paghi. E poi, scusate, un'altra notizia di cronaca. Adescate in una chat e violentate a 14 anni. Arrestate due ventenni di un campo nomadi a Roma. Ancora a centro pagina. Notizia curiosa di tecnologia. Milano si chiama RIM, parla con la gente. Vuoi un selfie? C'è un robot in giro che regala abbracci. Andiamo su Repubblica. L'apertura è sul voto in Sicilia. PD, il voto in Sicilia, apre lo scontro su Renzi, Premier. Orlando, decideremo il candidato dopo i risultati. Berlusconi evoca le larghe intese. Solo se costretti. Poi, a centro pagina, troviamo la fotonotizia. Il Presidente affronta il tour in Estremo Oriente. La notte piccola per Trump, leader in sonne tra TV e Twitter. Vedete la foto con i supporters giapponesi ad attendere il Presidente degli Stati Uniti. C'è poi l'analisi su quanto sta accadendo in Spagna. Se le manette spingono la Catalogna nel baratro. Con l'ordine d'arresto per Puigdemont, Madrid radicalizza la crisi autonomista. Poi, passiamo alla stampa che apre con le elezioni in Sicilia. La sfida in Sicilia anticipa la corsa per Palazzo Chigi. Testa a testa, Grillo, centrodestra per Renzi. L'incubo 10%, prime crepe dopo l'intesa Berlusconi-Salvini. Andiamo a vedere quest'altra notizia. La Procura, ecco chi sbagliò, in piazza San Carlo. Le carte dei PM, sicurezza non garantita. La serata andava annullata verso le richieste di rinvio a giudizio. Per quanto accadde nella notte della partita Juventus-Real Madrid di Champions del 3 giugno scorso. La finale poi vinta dal Real che veniva trasmessa in piazza San Carlo a Torino. Ricorderete tutti le scene di panico e quanto accaduto in piazza quella sera. Continuiamo con il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura. Mafia, Capitale, Bis, Zingaretti e altri 26 sono falsi testimoni. Il Tribunale trasmette alla Procura i verbali di diversi esponenti politici per quanto riguarda l'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. E poi andiamo a vedere a centropagina. Molestie, accuse a tornatore e Weinstein rischia la galera. La showgirl Mirjana Trevisan accusa vent'anni fa il regista. Mi palpeggiò l'ex velina sul premio Oscar e la mia parola contro la sua per il produttore anche del film dell'italiano. Nuova denuncia di stupro. Chiaramente si parla di Weinstein. Andiamo sul sole 24 ore, adesso il principale quotidiano economico e finanziario italiano. L'apertura tra Europa e Stati Uniti e battaglia sul fisco. Corsa al taglio delle tasse per attirare le imprese. Francia e Olanda puntano a ridurre il prelievo. L'Italia prova a diminuire il distacco. E poi notizia che arriva dal Venezuela. Maduro chiede la ristrutturazione del debito venezuelano. Paese sempre più in crisi economica e sociale. Continuiamo con il lavoro. Contenziosi in caduta. In tre anni le cause sui contratti a termine sono calate. Del 56,5% effetto riforma del Job Act. Sulle controverse. Crollo dei procedimenti sull'articolo 18. Il tradizionale focus nel taglio alto con l'integrativa detrazione IVA lunga in attesa delle correzioni per il decreto. Andiamo sul manifesto. Il quotidiano comunista. La foto del presidente, ormai ex presidente Puigdemont, wanted e il titolo ricercato. L'euro mandato di arresto per Puigdemont e i quattro ex ministri esuli a Bruxelles è arrivato. L'ex presidente alla TV belga sono pronto a candidarmi anche dall'estero. I politici in carcere potranno farlo. Rifiutato il ricorso per la liberazione dei due giorni. L'elezione in Sicilia. Intervista a Claudio Fava, candidato delle sinistre alternative al Partito Democratico. PD senza argomenti. Perderà questa la previsione di Fava. Andiamo sul messaggero. Andiamo a vedere il titolo dell'edizione nazionale. Roma stuprate a 14 anni dai Rom conosciuti in una chat. Il contatto su Facebook. Poi l'incontro. Volevamo conoscerli. Legate e minacciate. Due arresti al campo di Via Salone. Il prefetto Basilone. Ora telecamere nei parchi. Non è purtroppo la prima volta che nella capitale accadono fatti simili. E poi confronto all'americana tra Banca Italia e Consob. Documenti incompleti. Questo per quanto riguarda la commissione d'inchiesta sulle banche e su quanto accaduto nel fallimento di diversi istituti di credito. Venete. Commissione in pressing su Via Nazionale. Renzi. Controlli inefficaci. Chi ha sbagliato deve pagare. Così il segretario del Partito Democratico. E poi un amarcord. Un film. La rivalità fra i grandi tennisti. Borg e Meccherò. Ghiaccio e fuoco. Il mito della sfida degli opposti. I due grandi del tennis. Altra notizia che non abbiamo visto sugli altri quotidiani fino ad ora. Il Rosatellum e legge. Mattarella. Il mite. E quei no decisivi. Questo è il commento di Alessandro Campi sulla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della nuova legge elettorale. Il quotidiano Il Tempo. Restando sempre ai giornali romani. Il titolo Benvenuti a Rom. Gioco di parola con Roma. Minorenni stuprate dai nomali. Due quattordicenni violentati in un bosco al collatino. Adescate su Facebook e seviziate. L'incubo di una ragazza. Con me erano bestie. E poi, scusate, ancora a centropagina due notizie contrapposte. Spostate lo stadio oppure salta tutto. La figlia dell'architetto di Tordivale vuole bloccare l'impianto giallorosso. E poi calcio e potere. Lo titolo è il mio erede. Intanto il Presidente Bianco Celeste umilia i suoi detrattori. Riapre la Sud a parlare. Luciano Moggi. Cambiamo testata ancora. Andiamo a vedere Libero. Il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Appendono l'Appendino. La sindaca di Torino sotto inchiesta. La grillina rischia 12 anni per il caos in piazza durante Juve Real che provocò 1.500 feriti e un morto. Lei ha commesso gravi errori ma è grottesco che possa essere punita più severamente di un criminale. E poi, anche loro, convinti di vincere le elezioni, i tre dell'Ave Maria sulla foto del cosiddetto patto dell'Arancino fra Salvini, Berlusconi e Meloni per queste elezioni siciliane. Un centrodestra unito a supporto della candidatura di Musumeci. Continuiamo sul giornale. Andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura. La calca di Torino. Ora i grillini rischiano il concorso in omicidio. L'Appendino e i suoi dirigenti indagati per la ressa mortale. Sulla verità. Il titolo di apertura. Badanti in pensione subito e i poliziotti no. Trattamenti diversi anche tra maestri e insegnanti, muratori e contadini, netturbini e operai. Solo pochi potranno continuare con il regime attuale. Gli altri dovranno aspettare i 67 anni. La colpa è del governo che ha tentato e fallito la mossa a chiappavoti e dunque figli e figliastri fra i lavoratori. E poi nella fotonotizia il PD usa le chiese come pulpiti elettorali. In Campania Matteo Renzi in un comizio nella Basilica della Santissima Annunziata di Pestum. In Sicilia Fabrizio Micari. Primo in Santa Maria delle Grazie. Con Luca Orlando che è il quarto nella fotografia. Continuiamo con il secolo d'Italia. Il titolo Tuteliamo i militari. Oggi è festa delle forze armate. Dunque sul quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. C'è questa invocazione a tutelare le forze armate. Poi in primo piano nel taglio basso. Ministri, prima gli italiani, Meloni, nomi dopo le idee. E poi ci sono le macerie ovunque ma il PD tassa i terremotati. Ancora e fuga dalla Catalogna. Già scappate 2.000 aziende per la questione autonomia. Il mattino di Napoli ora. Il titolo principale riguarda le elezioni siciliane. Sicilia, un test per l'Italia. Nella prova l'unità del centrodestra, il destino di Renzi e la salute del Movimento 5 Stelle. Nel frattempo Mattarella, Promugge e Rosatellum. E i partiti scaldano i motori in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. E poi lavoro nero e prostituzione. Il blef dei centri di accoglienza per le inchieste del mattino. Sciocca a Roma, legate e stuperate a 14 anni dopo l'amicizia sui social. Arrestati i due giovani bosniaci di un campo nomadi. Andiamo a vedere anche avvenire. Il quotidiano cattolico titola Senza Patria, Senza Niente sulla fotografia. Dai Rohingya, Naikarana e Rom sono 10 milioni gli apolidi che Aenzur stima nel mondo. Scacciati tra persecuzioni e discriminazioni. E poi le elezioni in Sicilia. La Sicilia vota il futuro e ridisegna gli equilibri Renzi, Di Maio, Berlusconi e Salvini. La posta in gioco per i quattro leader che molto probabilmente saranno anche i protagonisti delle prossime elezioni politiche. E poi il secolo XIX, anche qui il voto in Sicilia, apre il giornale. Prove generali per il governo, scrive il quotidiano genovese. Adesso passiamo ai quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Andiamo a vedere il titolo di apertura. L'ultima chance. Montella, vincere o addio? Gattuso in pole. Panchina del Milan decide la partita con il Sassuolo. Se domani la situazione precipita, l'ipotesi più credibile è la promozione di Ringhio ora alla primavera. Squinzi dice, è il mio derby più triste. Così l'ex presidente di Confindustria e presidente del Sassuolo, grande tifoso del Milan. A centropagina l'intervista a Monci, io Roma, Latuta e Totti. Parla di essere lo scudetto, dobbiamo provarci. Atletico Madrid esempio da seguire, Di Bala è il più decisivo. Il rivale Viola, Simeone Junior, sono buddista. Papà ha l'Inter nel destino. Ancora di Inter, parliamo in quest'altra notizia. Il gigante Skriniar vale già il doppio, lo slovacco pagato 30 milioni e il leader dei Nerazzurri. Intanto hobby carica in granata, siamo tosti e arrabbiati. Il derby della Lanterna, Genoa-Samp, che derby? Juric rischia tutto, Giampaolo per il Tris. Andiamo sul Corriere dello Sport. A centropagina la fotografia di Javier Zanetti, è tornata l'Inter. Il titolo parla Zanetti, riapriremo un nuovo ciclo, lo scudetto, ci sono squadre più attrezzate. L'ultimo simbolo nerazzurro si racconta da Buenos Aires al triplete, nella 2x2 di Walter Veltroni. Nel taglio alto, il Milan, restando alle squadre milanesi, Gattuso è pronto per salire sulla panchina dei Rossoneri. A Reggio Emilia, ultima chiamata per Montella. Si gioca tutto in casa del Sassuolo, dove perse la panchina Allegri. Ringhio in preallarme, il club ha deciso se la situazione precipita. Tocca a lui. Nel taglio basso andiamo a vedere Juve Marchisio alla carica, col Benevento il centrocampista torna titolare. Poi Napoli, nuova idea Tremolinas, sondaggio per il francese Goulam operato. La Serie B, la rimonta di Zeman tra Pescara e Palermo, finisce 2-2. Andiamo su Tutto Sport, il titolo principale è dedicato alla Juventus. Juve tutti sotto esame, Allegri alla Rosa al completo. La concorrenza interna diventa spietata da Dybala ad Aleksandro, da Douglas Costa a Mandzukic. Nessuno può più permettersi i cali di tensione, altrimenti sono guai. E poi domani a casa Inter, Toro c'è da correre. La sfida alla squadra di Spalletti, che fino ad ora ha il record per chilometri coperti. Quella di Mijalovic è l'ultima in questo senso. Lianco conferma, pronti al 100%. Ventura chiama anche Belotti intanto per lo spareggio con la Svezia. E poi troviamo di spalla il Milan, Montella vede il capolinea, Gattuso la svolta. E poi Genoa-Samp, Juric-Giampaolo, uno per salvarsi, l'altro per volare. E vi ricordo che ci sono 14 punti di distacco fra Genoa e Samp. Probabilmente mai accaduto nella storia recente dei derby della Lanterna, che le due squadre di Genoa fossero così lontane. Questa era anche l'ultima notizia per il momento. La prima parte di Mattino 6 termina qui. Adesso spazio alle previsioni del tempo, poi un piccolo break pubblicitario. E torniamo con la seconda parte dove sfoglieremo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Come detto, torniamo alle notizie dalla nostra regione. Andiamo ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal centro. In primo piano, il caso della pittrice scomparsa Renata Indagati. L'ex marito e il figlio, la procura ipotizza il concorso in omicidio. I risse piombano a Giulianova. Sotto Torchio, Giuseppe Simone Santoleri, sequestrata l'abitazione. Vedete alcuni scatti, alcuni momenti del sopralluogo dei risse nell'abitazione dell'ex marito. Le tappe del mistero. Sparite il 9 ottobre. Gli appelli a chi l'ha visto. Dalla Durso e di Chieti. Ed era partita da Ancona per tornare in Abruzzo. Da qui comincia il giallo di Renata Rapposelli, che ha 64 anni. Andiamo avanti. 8 anni e mezzo dal sisma aquilano. Cambiando argomento. La grazia di Mattarella per il preside arrestato. Bearzi non dovrà più scontare 5 anni di interdizione dalla scuola. E Felice fu condannato per la morte di 3 studenti sotto le macerie del Cotugno. Tre vittime di 15, 16 e 17 anni nel crollo del 6 aprile 2009. Il dirigente ha espiato solo in parte la sua pena. Le reazioni alla notizia. In questo box, Leonio e il suo collega di Avezzano lo hanno crocifisso tre volte. Nel taglio basso, altra notizia, torna al lavoro ma non è giusto. Parla Lucia Catarinacci. Il mio Luigi aveva 15 anni. Non c'è più la mamma di una delle giovani vittime. Questo lo sfogo a seguito della notizia. Andiamo sulla città. Nella pagina di primo piano ancora il giallo di Giulianova, la pittrice scomparsa. Anche qui il titolo ex marito e figlio indagati per omicidio. Un mese dopo la scomparsa di Renata Rapposelli, il ris dei carabinieri nella loro casa Giulianova. La svolta, l'avviso di garanzia per concorso in omicidio. Il giallo è scattato ieri mattina dopo un interrogatorio fiume dai carabinieri di Ancona. Il giornale nel taglio basso ricostruisce anche un po' questa vicenda. Hai fatto tu del male a tua madre? A chi l'ha visto? La domanda diretta della Sciarelli durante la trasmissione. Il figlio della donna, Simone Santoleri, ha partecipato alla trasmissione. Nella parte finale dell'intervista, nel corso della diretta, la conduttrice ha incalzato l'uomo chiedendogli in chiusura tagliamo la testa al toro, hai fatto tu del male a tua madre? L'uomo ha titubato e inanellato frasi volte a spiegare che oggi non avrebbe avuto motivo per farlo, a differenza che in passato, dicendo una casa o una posizione. Ha provato a dire, mostrando per la prima volta, delle difficoltà nel rispondere. Le difficoltà che evidentemente hanno indotto anche gli investigatori a vederci più chiaro e a indagare ex marito e figlio della donna. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo del messaggero. Qui si cambia notizia. Le strategie della regione mobilità sostenibile ai capoluoghi arrivano 23 milioni, finanziati trasporto pubblico, parcheggi e percorsi ciclabili, appescherà dai 7 ai 10 bus elettrici per la viabilità sulla strada parco. E allora, andiamo a vedere insieme il servizio. E' pari a 23 milioni di euro la somma che la regione Abruzzo ha destinato ai quattro capoluoghi di provincia per lo sviluppo urbano sostenibile. Di questa somma fino a 5 milioni sono destinati a ciascun capoluogo, mentre i restanti 3 milioni saranno assegnati in ragione delle specificità delle funzioni urbane e della consistenza demografica sia dell'ambito cittadino che di quello provinciale. Da finanziare azioni che mirino alla trasformazione delle città in realtà urbane smart e sostenibili attraverso la diffusione della connettività a banda ultralarga, la realizzazione di sistemi intelligenti per la mobilità, la riduzione dell'impatto ambientale connesso alla mobilità e la qualificazione dell'offerta turistico-culturale attraverso un più esteso uso delle ITC. E con noi attraverso queste misure abbiamo deciso di aiutare le quattro città capoluogo d'Abruzzo e torneremo sopra per aiutare ulteriormente anche la città capoluogo di regione che è l'Aquila, perché vogliamo per loro la modernizzazione dei vettori che consentono il trasporto collettivo, l'informatizzazione riferita alle informazioni concernenti i mezzi di trasporto collettivo, vogliamo la valorizzazione dei beni culturali e vogliamo che si insedi anche una cultura della visione strategica della evoluzione delle città, una visione che consenta per esempio le alleanze, la capacità di sviluppare le prossimità territoriali. Che ti punta sulla valorizzazione del patrimonio storico-culturale della città, l'Aquila intende realizzare una mobilità sostenibile che colleghi tutte le frazioni, le New Town e i nuovi quartieri del progetto case con il centro storico. Anche Pescara punta sulla mobilità sostenibile mediante la creazione di corridoi ecosostenibili. Teramo ambisce a recuperare alcuni edifici storici per insediarvi nuove funzioni socioculturali e migliorarne il livello di accessibilità. Noi saremo implacabili nel controllo, eviteremo che accada con questa misura quello che è accaduto per più quinquenni all'ARIT, dove sono passate molte risorse e poco si è rinvenuto a favore della regione. Le amministrazioni comunali dovranno essere dei tori che portano avanti con velocità la spesa pubblica di qualità e la capacità della rendicondazione. Non potranno dormire, non potranno messicanizzarsi col sombrero. Notizia questa che ritroviamo anche sulla pagina Abruzzo del quotidiano Il Centro i progetti per le quattro città, i capoluoghi abruzzesi, 29 milioni per la mobilità fondi per acquistare 33 bus elettrici, colonnine per il rifornimento, 133 punti Wi-Fi e la riqualificazione dei luoghi simbolo. D'Alfonso non faremo come l'ARIT, avete sentito proprio le sue parole. Qui vedete nella grafica il riassunto delle risorse provincia per provincia, città per città. Nel taglio basso il caso, i 5 Stelle accusano Bussi, c'è stata una mini-indagine epidemiologica. Marcozzi svela la delibera regionale, esami solo su 100 volontari. E poi le critiche da parte di Forza Italia e del centrodestra sul Crua, il centro di ricerca unico abruzzese per l'agricoltura, Febbo e Sospidi contro il nuovo incarico a Micucci. Continuiamo sul quotidiano Il Centro e passiamo alla pagina di Pescara. Strada Parco, Filo Via, arrivano 3 milioni per comprare i bus elettrici. La regione finanzia l'acquisto dei mezzi, come abbiamo visto in precedenza, ma serve un accordo con il Ministero. Dunque questi riflessi su Pescara, delle somme stanziate dalla regione. Continuando con le notizie sulla pagina di Pescara, Tortuga stoppa la musica e il Megà cambia gestione. Movida troppo rumorosa, il sindaco di Montesilvano ha recepito le richieste dei residenti della Riviera. Il titolare del night faremo ricorsi, ora puntiamo sul locale di Via Bologna. Andiamo a vedere anche l'apertura di pagina di Pescara sul messaggero. Il titolo è questo, Dallo sport un argine al bullismo. La guerra tra baby gang portata alla luce dai tre arresti avvenuti nei giorni scorsi mobilita la risposta delle istituzioni. Nel piano sociale comunale, progetti mirati alla diffusione dell'attività fisica e all'ascolto dei bisogni delle famiglie a rischio. Il presidente del CONI, Enzo Imbastaro, punta a coinvolgere almeno 20.000 ragazzi. Insegneremo il rispetto degli altri e delle regole. Poi uno sportello per i lavori del mare. Prima iniziativa il corso per marinaio autorizzato alla pesca. Beci pronti per il grande rilancio del porto. Ieri appunto la presentazione di questo sportello del mare. Poi Noa, la Baratelli, regala un concerto su per la società aquilana dei concerti. Esporta al massimo l'appuntamento clou della stagione. Bus per gli abbonati. Questo cambio di sede è dovuto al fatto che all'Aquila non ci sono spazi sufficienti e adeguati per questo tipo di manifestazioni. Proseguiamo sul messaggero. Andiamo a vedere l'altra notizia che riguarda Pescara. Una ledi di ferro dopo provolo guiderà la prefettura nel curriculum di Gerardina Basilicata. Spiccano gli incarichi di commissario in diversi comuni campani sciolti per Camorra. Passaggio delle consegne fissato al 20 novembre. Più che rigopiano pesa la continuità nella gestione rigorosa dell'ordine pubblico. Completiamo la lettura delle pagine di Pescara del messaggero. Ricompare la tendopoli in spiaggia. Sette giorni dallo sgombero. Nuovo accampamento dei reduci di via Riosto a Montesilvano. E poi bussi. La beffa dello screening sanitario sotto controllo. Solo 100 residenti. Abbiamo visto già in precedenza la denuncia del Movimento 5 Stelle. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a sfogliare le altre pagine di Pescara. Tornano i 40 nonni vigili ma solo per dicembre. Il Comune recupera 17 mila euro dal bilancio per ripristinare il controllo nelle scuole. A giorni scade il contratto degli agenti stagionali assunti dalla Polizia Municipale. E poi il nuovo stadio e le polemiche. Nuovo stadio e parco non si faranno mai. Antonelli di Forza Italia boccia le proposte dell'amministrazione comunale per il futuro della città. E dice sono un blef. Continuiamo. Scontro sugli accessi. Il caso delle naia di faccia a faccia tra gestore e club acquatico. Del vecchio incontro un gruppo di genitori e convoca le due parti in lite. Ma se la controversia non sarà ricomposta, lunedì i ragazzi non entreranno. E poi il club nautico sfrattato dal Marina di Pescara, contenzioso con il porto turistico. La storica associazione perde la sua sede. La cronaca coppia travolta da un furgone sulle strisce. Stavano attraversando sul lungomare di Montesilvano. Il marito è in gravi condizioni e ricoverato nel reparto di rianimazione. E poi l'aeroporto d'Abruzzo. Record di passeggeri. Traffico nei primi dieci mesi dell'anno. Supera quello di tutto il 2016. E da lunedì parcheggio nuovo. Aeroporto che è stato oggetto di lavori di restyling. E poi il blitz dei NAS nelle scuole. Chiuso un asilo nido nella zona dell'area metropolitana. La struttura non aveva l'autorizzazione. Controlli anche a Francavilla. E a Pescara due denunce. Cibi serviti come biologici. Andiamo a vedere anche il servizio che riguarda appunto questa operazione del NAS. Blitz dei NAS nelle mezze scolastiche della regione. Alimenti sequestrati. Persone segnalate all'autorità giudiziaria ed amministrativa. E sanzioni elevate per 15 mila euro. E questo il bilancio di una serie di controlli che i carabinieri del NAS Abruzzo di Pescara, coordinati dal Maggiore Domenico Candelli, hanno eseguito nelle ultime ore, nelle menze scolastiche, negli istituti dell'infanzia, primari e secondari, sia pubblici che privati in tutto Abruzzo. Sono state 11 in totale le strutture ispezionate nelle province di Pescara, Chieti e L'Aquila. I nostri controlli partono con l'inizio dell'anno scolastico, ma si protraggono per l'anno scolastico. L'impulso dato in queste prime settimane della scuola è appunto dovuto a dare immediata risposta alle numerose segnalazioni che ci sono prevenute. Ovviamente a fronte di segnalazioni che poi venivano riscontrate con effettive criticità, ne abbiamo avute anche altre che non erano poi riscontrate da problemi. Questo comunque ha conforto anche di chi ci ha chiamato e di chi ha fiducia in noi. Le sanzioni hanno riguardato essenzialmente tutte le problematiche correlate alla sicurezza alimentare, quindi dalle mancate adozioni delle procedure di autocontrollo alla mancata attuazione di procedure di ritracciabilità e in alcuni casi hanno riguardato strutture che non erano autorizzate o comunque avevano degli ambienti che non rientravano nei locali autorizzati. Da questo punto di vista la previsione legislativa al riguardo vede delle sanzioni che partono da un minimo di 1000 Euro fino ad arrivare ai 3000 Euro per quanto riguarda l'assenza di autorizzazione. I nostri controlli oltre a verificare quelle che sono le condizioni igienico-sanitarie per quanto riguarda l'alimentazione, polarizziamo questi controlli anche per ciò che riguardano le strutture, quindi carenze strutturali, condizioni di igienicità all'interno di servizi igienici, ma anche in particolar modo nelle aule. La pagina di Montesilvano sul quotidiano Il Centro. Salve per miracolo, madre e figlia intossicate dal bracere, la combustione ha liberato monossido di carbonio, la donna e la bimba di 5 anni trasferite a Fano. I medici sostanze in sapore e inodore ma pericolosissime, i primi sintomi del malessere sono cefalea e svenimento. Nella pagina successiva, quella di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara, ritmi serrati a rigopiano per la bonifica dell'area. Procedono a pieno regime i lavori per lo sgombero di tronchi e detriti. Tra un mese prima della neve comincerà il recupero degli oggetti delle vittime. E poi Maremonti, appalto annullato. Il CDA dell'ANAS finanzia i nuovi lavori per il collegamento Penne e Pescara. Andiamo sulla pagina di Chieti. Per l'avvertenza Oneiwell, il prefetto, sospendete lo sciopero. Corona sollecita i lavoratori, bisogna lasciare al governo spazio per negoziare, ma gli operai decidono di andare avanti. I sindacati rifletteremo su quanto richiesto in ballo. C'è il futuro di 420 famiglie. Andiamo a vedere insieme anche il servizio su quanto accaduto nella giornata di ieri in questa importante avvertenza. Fate rientrare lo sciopero alla Oneiwell. A solicitare i sindacati è stato il prefetto di Chieti, Antonio Corona, nel corso di un incontro al comune di Atessa. Visitesi nella stanza del sindaco Giulio Borrelli, che ha ospitato la delegazione. Presente anche il segretario nazionale FIMCISL, Marco Bentivogli, oltre ai segretari locali di FIOM e WILM, è alle RSU di fabbrica. Finora la multinazionale americana non ha aperto dialoghi con i rappresentanti dei lavoratori né con il governo italiano. Ha preso tempo, rinviando di volta in volta il tavolo nazionale. Nel mentre però si è organizzata, dicono le RSU, per produrre in altri stabilimenti, oltre al nuovo gemello della Slovacchia, i turbocompressori per il settore automotive. Il ministro Calenda ritiene necessario sospendere la mobilità per avviare la trattativa con la multinazionale. Una data per il confronto al momento non c'è. Il ha reso conto di Bentivogli. Ma 47 giorni dall'inizio dello sciopero all'Honeywell da Tessa, il prefetto ha convocato le segreterie territoriali di FIMCISL e ha sostanzialmente posto un invito a sospendere la mobilitazione nell'attesa dell'avvio del confronto sindacale, spiegando che da parte del governo c'è la necessità di recuperare qualche spazio di negoziabilità maggiore, e di confronto che l'azienda in questo momento sta negando totalmente. Per cui ci ha invitato a fare questo tipo di passo proprio per consentire la riapertura della trattativa. Ovviamente questa valutazione non possiamo prenderla da solo, siamo a fianco, accanto ai lavoratori e per cui nelle prossime ore faremo le valutazioni con le RSU, le rappresentanze interne e poi in assemblea con i lavoratori si deciderà il da farsi. La decisione di proseguire lo sciopero al tranza o arrendersi alla settima settimana spetta ai lavoratori riuniti in assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento di Via Ancona. Comunque vada, dicono i sindacati, sarà presa una decisione collegiale, non prima però di aver fatto il punto al tavolo regionale nell'incontro previsto lunedì prossimo. Proseguiamo, bonifica siti contaminati, servono 5 milioni a Chieti, il sindaco alla regione sblocchi i fondi del masterplan finora, ha pagato solo il comune. Andiamo a vedere la pagina di Chieti sul messaggero, restiando al capoluogo comune, sforbiciata in arrivo, meno uffici, salta un dirigente, ragioneria perde autoparco e patrimonio, tre i settori tecnici, uno gestirà il masterplan, centrale unica per gestire tutti gli appalti, attività produttive su app con l'urbanistica, questa è la riorganizzazione del comune. Poi nel taglio basso la cronaca, nonno e nipote di 4 anni investiti allo scalo sono feriti, scoppia il caso sicurezza stradale, interrogazione del consigliere Marsoli del PD su Via Papa Giovanni. Andiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire la pagina dell'Aquila, Roccaraso, la strage nazista dei Limmari, la Germania finanzi, un parco della memoria. Dopo la sentenza che condanna il governo tedesco a risarcire redi e comune, il sindaco di Donato dice non ci interessano i soldi, vogliamo custodire la memoria. Andiamo sul messaggero, andiamo ad aprire la pagina dell'Aquila, eccola qui. Qui ci sono le polemiche sulla grazia all'ex preside del convitto Bearsi che potrà tornare a scuola. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha cancellato l'interdizione pubblica, ringrazio chi ha mostrato sensibilità, il rettore era stato condannato a 4 anni. E poi con l'emaggio si riscopre Barocca, quasi al termine dei lavori spuntano preziose decorazioni, la repertura della basilica è prevista per la fine dell'anno, le finiture dorate si aggiungono alle cromie bianco e rosa. Vittorini, il restauro, offrirà una nuova immagine della chiesa. Nella pagina di Avezzano Sulmona, ordine pubblico in città e allarme. A lanciarlo il sindacato UGL di Polizia, lo strano caso delle panchine danneggiate proprio in piazza risorgimento, la cospicua presenza degli stranieri nella Marsica distoglierebbe forze personale dal necessario controllo del capoluogo. E restando in tema di ordine pubblico, per il derby con l'Aquila, pronte due ordinanze per cercare di evitare scontri tra le due tifoserie rivali. Andiamo a vedere insieme sul quotidiano Il Centro, la pagina dedicata a Teramo, lotta al vizio della velocità e l'apertura, telelaser sulla 24 in un mese, 148 multe, 9 patenti ritirate. Andiamo a vedere anche i titoli su Teramo da parte del messaggero. Allora apriamo la pagina, eccola qui, comune, il bilancio è in bilico, c'è il rischio di commissariamento. Questa è l'apertura della pagina Teramana. Paolo Tancredi tuona contro i dissidenti, Gatti chiama i suoi per decidere cosa fare, oggi dovrebbe arrivare il documento, potrebbe contenere la sfiducia per Brucchi, il deputato di Alternativa Popolare, Paolo Gatti, chiede ai dissidenti di gettare la maschera e rivelare i loro veri interessi. Poi il terremoto, casette antisismiche, iter a doppia velocità a Valle Castellana, bisognerà attendere la prossima estate a Torricella le cosiddette SAI consegnate a giorni. Per la scuola risorgimento lunedì si torna in aula dopo i lavori e nella pagina della provincia ritroviamo il giallo di Giulianova. Andiamo a vedere anche la città, restiamo sempre alla cronaca, scena muta sullo scambio di provette, interrogati l'infermiere e l'automobilista indagati per colluzione per aver ripulito il sangue positivo alla cocaina. Continuiamo, sisma, il commissario scrive ai sindaci, agevolazioni a cittadini e imprese, ecco tutte le correzioni introdotte dal governo e poi fondi europei per il mercato coperto, la regione stanzia 4,6 milioni di euro per il recupero della struttura di Piazza Verdi. Verso il consiglio comunale sul bilancio i due paoli sono stufi dei giochetti dei dissidenti, vedete la foto di Paolo Gatti e Paolo Tancredi, il documento gatteano sarebbe in elaborazione dopo la riunione di ieri sera sulla situazione di stallo in comune, l'assenza dei dissidenti di maggioranza sul voto di bilancio. Andiamo in provincia, esplosione in cucina, novantenne salvo per miracolo causata da un'improvvisa fuga di gas, il pensionato di Cervaro di Cronia Letto è uscito di casa poco prima. Il masterplan della Teramo Mare, il quarto lotto cambia percorso, confermata la doppia uscita su Giuliano Veroseto si discute se realizzarlo a due oppure a quattro corsie. Prima di andare a vedere lo sport sulla città andiamo invece ad aprire la pagina dello sport sul quotidiano Il Centro, perché dobbiamo parlare della Serie B e della partita che si è giocata ieri, l'anticipo della tredicesima giornata. Pescara-Palermo 2-2 dai fischi agli applausi, finalmente si rivede il Pescara di Zeman. Noi andiamo subito a vedere il servizio di Paolo Renzetti. Nella gara più difficile che potesse capitare in questo momento del torneo, al cospetto della capolista Palermo, squadra costruita per tentare l'immediata risalita nella massima serie, Il Pescara manca l'appuntamento con la vittoria, mostrando però progressi notevoli rispetto al match con il Brescia. Una ripresa incoraggiante quella giocata con la formazione siciliana e che lascia ben sperare per il prosieguo del torneo ad iniziare dalla gara di domenica prossima al San Nicola di Bari. Resta l'amaro in bocca per la mancata vittoria, anche se nel finale Vincenzo Fiorilo ha evitato con una grande parata su Nestorowski, quella che sarebbe stata una beffa atroce. Zeman cambia la tredicesima formazione su tredici gare. A centrocampo il Boemos schiera contemporaneamente Palazzi e Carraro con il secondo play ed il primo esterno con Brugman. In difesa torna Crescenze a destra con Zampano in panchina. Centrali Bovo e Coda con Mazzotta, confermatissimo a sinistra. In attacco si rivede Capone con Pettinari e Mancuso. Il primo freddo della stagione con il rendimento non proprio entusiasmante della squadra regala ancora larghi spazi vuoti sugli spalti dell'Adriatico con poco meno di 8.000 persone. Direzione di gara affidata a Giulia di Olbia. Si parte con un andamento lento prima di un lampo con la difesa palermitana bucata dal lancio di Coda che serve Capone che davanti a Posavec non sbaglia segnando la rete dell'1-0 per il giocatore prodotto del vivaio dell'Atalanta e la quarta rete stagionale. La gioia del vantaggio bianca-azzurro dura però lo spazio di 5 minuti visto che al quarto d'ora Rispoli pesca in area Ciocev che tutto solo a porta quasi spalancata con un tiro sporco mette alle spalle dell'incolpevole Fiorillo per l'1-1. Tutto da rifare per la squadra di Zeman che sembra però subire un po' il contraccolpo psicologico con la squadra di Tedino che continua invece ad attaccare facendo anche più possesso palla. Poche le emozioni nell'umida serata dell'Adriatico dove però al 32esimo arriva la doccia gelata del gol del solito Nestorowski che permette alla formazione siciliana di mettere la freccia e di passare in vantaggio. Iniziano a soffiare venti di crisi con Cori della Curva Nord contro il presidente Daniele Sebastiani e anche contro il tecnico Zeman. In campo il Pescara sbuffa, soffre e rischia anche di pareggiare però al 42esimo con una spettacolare rovesciata di Pettinari in area che vede il miracolo distinto di Posavec che respinge il pallone. Finisce qui un primo tempo amaro per il Pescara che rientra negli spogliatoi sotto i fischi dell'Adriatico che evidentemente servono però a scuotere la formazione abruzzese che al primo della ripresa dopo un'azione travolgente trova il pareggio con Brugman. Bravo a mettere il pallone nell'angolino dopo una prima uscita del portiere siciliano su Capone ristabilita la parità il Pescara torna a crederci e si vede e così al decimo trova anche il gol del 3-2 con Pettinari rete però annullata giustamente per fuorigioco. I biancazzurri fanno ora vedere anche qualche buona giocata alla Zeman rischiando però in qualche occasione la gara si mantiene viva e al sedicesimo dopo un pallone perso dai siciliani Capone se ne va tutto solo sulla sinistra prima di servire al centro il liberissimo Mancuso che si divora letteralmente il 3-2 tutto solo davanti al portiere Posavec. Passa qualche istante al Palermo viene annullato il gol di Ciocev per un offside millimetrico. Il Pescara attacca e al diciottesimo Pettinari manca ancora il vantaggio non riuscendo a centrare il bersaglio grosso a due passi da Posavec. Ancora qualche attimo in area palermitana Rispoli rifila una gomitata a coda con Giuha che però non vede quello che accade e non interviene con il rigore che avrebbe dovuto decretare e l'espulsione per il giocatore palermitano. Le squadre si allungano e lo spettacolo ne guadagna. Zeman al ventottesimo manda in campo del sole per Mancuso l'ultimo quarto d'ora di gara. Vede poi l'ingresso in campo anche di Valzania per Palazzi con i minuti che scorrono inesorabili e con gli ospiti che al trentaseiesimo con lo scatenato Nestorowski vanno ancora una volta ad un passo dal vantaggio. Mafiorillo c'è e salva al quarantatresimo. Arriva poi il momento di Gans per Pettinari prima della nuova superparata del portiere Biancazzurro ancora sull'attaccante Macedone al novantatresimo ad evitare una sconfitta che per il Pescara sarebbe stata a dir poco bugiarda. E allora andiamo a vedere anche il titolo sull'Abruzzo Sport del messaggero per quanto riguarda la partita delle Pescara Pescara un pari pazzo questo è il titolo scelto i Biancazzurri bloccano la capolista al termine di una gara da due volti e ricca di colpi di scena meglio i siciliani nel primo tempo poi una bella reazione e una ripresa con tante occasioni e le abbiamo viste nel servizio nel taglio basso Fiorillo la parata aveva studiato Nestorovski Coda risultato importante contro una grande nella ripresa in campo c'eravamo soltanto noi andiamo a vedere altri commenti sul quotidiano il centro le peaggelle dei Biancazzurri Fiorillo salve il Pescara nel finale il portiere decisivo l'abbiamo visto al novantatresimo Capone torna titolare va subito in rete bene mancuso da rivedere Palazzi e Carraro e poi Coda bene così ma c'era un rigore su di me il capitano Brugman la squadra sta crescendo e segue Zeman ora serve tranquillità cambiamo pagina Zeman nel birino della curva abbiamo sentito anche nel servizio di Paolo Lorenzetti prima della gara confronto tra tifosi e giocatori il Boemo alcuni sostenitori sono venuti in hotel e poi ci sono stati anche i fischi a fine primo tempo il commento dell'allenatore del Palermo Tedino e rimpianti di Tedino gol del 2-2 evitabile e un errore arbitrale andiamo a vedere adesso il titolo sulla Serie C lasciando la partita del Pescara Teramo contro il Suttirol rientrano Caidi Amadio domani al Bonolis sfida tra gli allenatori a Stai Zanetti ex calciatori del Torino assenti Fratangelo e Sumare andiamo a vedere il titolo anche della città sul Teramo eccolo qui Teramo col Suttirol tornano Amadio e Caidi saranno i due cambi rispetto alla gara contro l'Albinolef per il resto la formazione dovrebbe essere confermata la Lega Pro a Modena il segretario generale Francesco Ghirelli ci auguriamo che non scenda in campo la Berretti non si può perdere altro tempo il pagamento oppure la conclusione di questa storia andiamo a vedere anche sul messaggero gli altri titoli partendo dalla serie C anche qui Teramo col Sud di Ro tornano Caidi e Amadio Costantino sarà una sfida salvezza che dà grandi motivazioni poi per la serie D l'Aquila sponsorizzazioni per ripianare i debiti ancora crisi societaria per l'Aquila mentre a centro pagina troviamo il calcio a 5 la Quessapone vittoria d'obbligo contro l'ex Bellarte dopo le due sconfitte la squadra di Ricci ospita Chieti e Real Rieti e deve mantenere il contatto con le prime sempre per il calcio a 5 un gol di Cuzzolino nel filare fa volare il Pescara a Pesaro andiamo a vedere il volley di serie A2 la Sieco contro il Club Italia per avvicinare i playoff e poi nel taglio basso il basket con Roseto ancora senza rinforzi con piacenza emergenza totale la palla a mano con i Lions in trasferta a Padova il globo arriva la capolista continuiamo sul quotidiano il centro con i dilettanti eccellenza e promozione domani in campo Chieti all'Angelini contro il Cupello il Giulianova tenta invece l'allungo in vetta andiamo a vedere da vicino il derby domani al Dei Marsi Paris e Giampaolo un pari non ci pensiamo nemmeno il presidente e il tecnico dell'Avezzano vogliono vincere playoff obiettivo minimo la società pensa già ai rinforzi Fioramanti in contrachiodi la cessione dell'Aquila è vicina l'imprenditore intenzionato a rilevare il Crab sono ottimista sarà decisiva l'approvazione del bilancio il 13 di novembre andiamo avanti completiamo la lettura del centro Roseto e Piacenza domani in campo con tante assenze per il basket di A2 e poi l'amatorio ora vuole spugnare anche il Pallelettra in serie B per il calcio a 5 il Pescara centro il colpo a Pesaro a Chieti da questa pone sfida il Real Rieti dell'ex Bellarte nel taglio basso la palla a volo di A2 sieco contro il Club Italia dei figli d'arte e il volley di serie B Pineto Coget e Antoniana in campo è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina vi ricordo gli appuntamenti con la nostra informazione con il TG6 delle 14 delle 19 e delle 23 mattino 6 invece torna lunedì alle ore 8 grazie ancora buona giornata e buon fine settimana grazie a tutti grazie a tutti